Musica Trofeano, Valentino, 11 voti a favore. Una scheda bianca. Plebiscito per l'elezione a presidente del lato rifiuti del sindaco di Montefredane, questa la visione che ha dell'ente Valentino Trofeano. Presidente Trofeano comincia ufficialmente questa nuova avventura, su quali basi anche programmatiche? Oggi c'è stata una discussione oltre alla sua elezione? Intanto inizia bene perché c'è un'intesa di tutte le forze politiche in campo, quindi l'intesa istituzionale parte bene con l'appoggio di tutti quanti. Una lezione all'unanimità che mi dà una grande soddisfazione ma anche un grande senso di responsabilità. I punti programmatici ce li siamo già detti anche l'altra volta, li approfondiremo nella riunione che faremo giovedì prossima in modo da incominciare a perfezionare quelle che saranno le direttrici di questo nuovo piano che intendiamo portare avanti. Lo spirito, devo dire la verità, è molto costruttivo e quindi tutti sappiamo che ci attende una grande sfida e il lavoro di lavoro ce ne sta tanto da fare. Da oggi siamo in campo, siamo operativi ma dobbiamo ancora mettere in piedi una serie di attività per partire nel beno senso della parola. Presidente, circolano già dei documenti, dei programmi sui quali discutere ma la sua idea del Presidente per abbattere ad esempio la bolletta dei rifiuti qual è? Innanzitutto dobbiamo implementare moltissimo, secondo me, la differenziata. Dobbiamo ragionare in termini di rifiuto a chilometri zero, dobbiamo avviare un ragionamento su tutto il territorio. Noi abbiamo una fortuna che abbiamo un territorio molto vasto, la gran parte dei comuni è fatta da piccoli comuni dove possiamo mettere in campo delle strategie tali che i cittadini e i vari comuni possono essere in competizione tra loro e chi riesce a produrre meglio il ciclo dei rifiuti. Questa è la prima sfida perché se noi immaginiamo di poter fare le solide cose del passato non andiamo da nessuna parte, falliremmo immediatamente. L'obiettivo è quello di implementare, come dicevo prima, la differenziata, ridurre e abbattere i costi delle bollette ai cittadini. Qua stiamo parlando di un qualcosa che è praticamente una gestione aziendale e quindi dobbiamo cominciare a capire che i cittadini che sono i fruitori di questo servizio debbano avere un risparmio sensibile sulle bollette e bisogna far capire chi sarà più bravo e chi meno bravo e questa è la sfida che ci attende. Presidente, gestione aziendale è una parola su Irpini Ambiente, un'azienda che esiste, operante in questo momento in provincia di Avellino, che cosa si sente di dire agli operai? Sicuramente noi non è che siamo contro gli operai, noi siamo per recuperare tutti gli operai e oggi è prematuro dare un'idea ben precisa, ma Irpini Ambiente ha lavorato, lavora da tanti anni, ha un'esperienza tale su questi territori che va comunque rivalutata, va comunque presa in debita considerazione. Non è che oggi esistano le soluzioni con le bacchette magiche, si toglie il Irpini Ambiente e si mette un'altra, insomma dobbiamo ragionare, dobbiamo capire, io personalmente voglio capire quello che è lo stato dell'arte, sì conosciamo un pochettino tutte le questioni, gli imbianti che sono sul territorio, conosciamo una serie di condizioni, però oggi siamo chiamati a questa sfida, cioè dobbiamo decidere dove fare gli imbianti, come realizzarli, come far partecipare i cittadini, come abbattere i costi e soprattutto come salvaguardare l'ambiente, questo è fondamentale. Noi dobbiamo uscire dalla fase emergenziale anche nella gestione, noi non possiamo immaginare che la trasferenza, in questo caso stiamo facendo la trasferenza, si continua a fare in emergenza, laddove la facciamo, allo stilo, da qualsiasi altra parte, deve essere fatta nel rispetto della legge, nel rispetto di quelle che sono le azioni da mettere in campo, perché correremo il rischio se un'emergenza, sommiamo un'altra emergenza, facendo dei decreti che poi non rispetto alla legge qualcuno ci denuncia e il giorno dopo si chiude, insomma, quindi non ha senso da questo punto di vista. Allora lo stirre? Lo stirre sì, se lo stirre ha le autorizzazioni e la capacità per poter fare questo lavoro, questo noi dobbiamo mettere in campo. Se si è fatto tanto rumore rispetto allo stirre, intanto li sono dissequestrati, perché secondo lei ora è finalmente come se fosse disinteressata in questa fase a ritornare a quell'impianto? Non lo so, dobbiamo capire, dobbiamo vedere un pochettino come nei prossimi giorni si avranno le idee più care, non mi fate dire adesso delle cose che non è, devo approfondire il problema. Il 13 marzo è stata una manifestazione di interesse alla regione Campania per gli impianti e le comunità, voi sarete convocati da un po' se siete? Sì, questo vorrei che ci fossero parecchie adesioni, perché guardate, sono degli impianti molto semplici, piccoli, non sono invasivi e praticamente il cittadino, quello che è la cosa più importante, che ha la possibilità di controllare da vicino come magari certe operazioni vengono fatte. E' quello che dicevo prima, cioè in molti comuni magari basterebbe uno o due di questi piccoli impianti e si risolve il problema dell'umido. Dobbiamo valutare a 360 gradi, chiaramente per i piccoli comuni questo può andare bene, per i comuni che non lo vogliono fare, faranno un altro aspetto, abbiamo il dovere in questo momento di mettere in piedi un programma e una strategia che raccolga quanto più adesione possibile e quanto sia più condivisa possibile con i sindaci. I sindaci sono i primi attori, noi sicuramente siamo il Consiglio, abbiamo i nostri poteri, la decisione, la politica, eccetera, eccetera, però stiamo parlando di un qualcosa che è stato dato in capo ai sindaci, dove i primi attori sono i sindaci che rappresentano i propri cittadini, quindi qualsiasi operazione andiamo a fare, deve avere una condivisione quando più larga possibile. Tra una settimana si entrerà nel merito della discussione delle strategie di gestione. L'Udc ha già avanzato un documento con linee guida su impianti e differenziata. Sindaco Alaia, la sfida parte oggi per tutti gli amministratori, i sindaci che sono coinvolti in questo nuovo ato, una sfida non semplice. L'obiettivo primario immagino sia quello di abbattere i costi innanzitutto. Poi le strade per riuscire ad arrivare a questo obiettivo magari possono essere anche diverse. Voi avete fatto una proposta. Sì, in effetti l'Udc ha presentato una proposta che è stata già oggetto di discussione nella riunione di cui noi ci rendemmo promotori la settimana scorsa in provincia della Sala Grasso. In effetti la nostra proposta snocciola un po' con la problematica legata al ciclo dei rifiuti in provincia di Avellino, partendo dai dati dell'osservatorio consolidati all'anno 2015. I dati 2016 non sono ancora tutti disponibili. Ovviamente su quei dati abbiamo immaginato di affrontare il problema in duplice modo. Il primo offrendo una serie di proposte per la ottimizzazione della raccolta differenziata perché se meglio differenziamo conferiamo anche meno e in modo più qualificato. Quindi se pensassimo solamente all'indifferenziato che potrebbe notevolmente ridursi, differenziando meglio l'indifferenziato noi aumenteremo carta, cartone, vetro, plastica, multimateriale e quindi dai vari consorsi di filiera riusciremo a recuperare anche delle risorse che sicuramente sgraverebbero la bolletta dei cittadini. Al tempo stesso una migliore differenziata comporterebbe anche una politica più oculata sugli impianti preposti a ricevere i rifiuti al di là del loro genero e della loro natura. In questo senso è stata articolata la nostra proposta, un documento che credo anche a voi sia stato reso. Quindi noi abbiamo codificato la nostra proposta dal punto di vista politica e amministrativa e sulla stessa auspiliamo la convergenza delle altre forze politiche. Ben inteso che il documento che noi presentiamo riteniamo che non sia la verità assoluta. immaginiamo in un percorso virtuoso ove mai si dovesse pensare all'impiantistica a potenziare innanzitutto quella esistente, ma ove mai se ne dovesse rinvenire la necessità di stabilire nuovi siti, individuare nuovi siti di concerto con la regione, ovviamente ciò dovrà avvenire a nostro giudizio nelle aree industriali, nelle aree asi che sono già dotate di infrastrutture. Da parte nostra siamo aperti a tutte le soluzioni possibili, ovviamente coerenti con quelli che sono innanzitutto i principi di tutela e di rispetto dell'ambiente e al tempo stesso di conseguire quelli che sono i principi e canoni di efficienza e economicità delle progettualità che metteremo in campo. Un sindaco che ha nel proprio comune una raccolta differenziata elevatissima, ci sembra oltre il 90%, immagino che voglia conservare lo standard e sicuramente anche i costi per i suoi cittadini. Ecco, il problema sarà armonizzare il territorio, anche inevitabilmente il passaggio fondamentale diventa erpini ambiente. La nostra proposta in effetti rega una condizione che è quella di che lato debba promuovere la costituzione dei sottoambiti. Questo perché la norma ci dà la possibilità di fare una tariffazione differenziata. Lato è il soggetto che stabilisce la tariffa a livello provinciale, sempre lato nel momento in cui comuni per area territoriale omogenee con una percentuale di raccolta superiore a quella che è la media della provincia, tipo il 60%, almeno i dati dell'osservatorio, significa che quei comuni virtuosi possono chiedere una differenziazione tariffaria più consona e vicina a quelle che sono le proprie legittime aspettative per la percentuale di raccolta realizzata. Se tutto lascia pensare a modifiche per Irpini Ambiente, Forza Italia già frena. Oggi il via di questa nuova sfida amministrativa a cui sono chiamati i sindaci e a cui è chiamato lato rifiuti, un'animità sostanziale per il Presidente, ci sembra di capire diversità di vedute sulla programmazione, sulle cose che si andranno a fare, insomma come gestire il ciclo in provincia di Avellini? Guardi, il fatto stesso che il Presidente sia stato nominato all'unanimità indica il contrario di quello che lei affermava, che c'è invece un programma condiviso. È un programma che naturalmente andrà sviscerato nelle sue eccezionalità, nelle sue particolarità, perché il ciclo integrato di rifiuti non è una cosa semplice da gestire. L'abbiamo già visto con la Presidente Ato, dove necessariamente i confronti non finiscono mai e necessariamente bisogna ogni volta rivedere e mettere a punto qualcosa che sia sempre il meglio per le comunità. Noi cercheremo di lavorare nella trasparenza più assoluta. Abbiamo chiesto al Presidente che questo Consiglio d'Ambito lavori costantemente con un piano definito, con ordini del giorno definiti e con una presenza costante. Può essere il Pini Ambiente un punto fermo di questa nuova programmazione oppure no? Ma qui non si tratta di parlare di Pini Ambiente, sì, Pini Ambiente no. Sicuramente è un patrimonio, è un patrimonio importante. Il Pini Ambiente ha sostenuto comunque il ciclo dei rifiuti della provincia di Avellini in questi anni e quindi bisogna dare atto di quello e delle attività che ha svolto finora. Sicuramente è una società che va studiata, è una società che va capita nella sua complessità e quindi carpire in questo caso tutti gli aspetti positivi che questa gestione fatta ormai da diversi anni del Pini Ambiente ha dato alla provincia di Avellino. Per scelta civica i piccoli impianti di biocompostaggio sono la via possibile per l'efficienza. Parte oggi questa nuova avventura, questa sfida amministrativa non semplice. Il Presidente Tropeano ha parlato di condivisione degli obiettivi. Sui programmi avete anche già discusso su come portare avanti la gestione? In effetti noi abbiamo condiviso come scelta civica prima la lista unitaria come senso di responsabilità sia civico che politico. Ci sarà sicuramente un programma condiviso. L'obiettivo è quello di trovare una soluzione a questo problema che è quello dei rifiuti. La nostra provincia ha già una percentuale di raccolta non male rispetto alle altre province. Comunque il lavoro da fare è tanto. Abbiamo problemi di gestione, si capirà cosa fare con le società già in essere che fanno il servizio. Abbiamo un problema di impiantistica regionale. È impensabile che da una parte all'altra dell'Irpina si possono trasportare i rifiuti. Quindi noi come gruppo proporremo dei piccoli impianti di biocompostaggio che sono molto più gestibili e molto più controllabili. Per la gestione e per tutto valuteremo strada facendo in un senso di compattezza e di unione fra di noi senza problemi.